L'orgoglio di aver creato prodotti unici, inimitabili, contemporanei, irraggiungibili. L'orgoglio di donare gioia, energia, festa, amore, passione, calore. L'orgoglio di essere il gruppo di Ferrero Rocher, Pocket Coffee, Moncherie, Raffaello. Le praline, sentiamocelo dentro ogni giorno. Portiamolo con noi nel nostro lavoro, nella nostra vita. Pensiamo che quando assaggiamo una pralina, il piacere e lo stupore che proviamo, si ripete uguale in ogni angolo del mondo. Grazie a tutti.